autenticazione a due fattori uno degli elementi più importanti vitali direi che ad oggi in questo ventunesimo secolo ci aiutano a mantenere la nostra sicurezza informatica il guaio però è che moltissima gente non la usa ed anzi ancora più grave nemmeno sa che esiste e questo seppur tutti noi dal momento che possediamo uno straccio di smartphone ci abbiamo a che fare di continuo anche se purtroppo spesso inconsapevolmente pertanto gente prestati mio orecchio perché nei prossimi minuti andremo a vedere insieme di che cosa si tratta come funziona quali tipologie esistono e per quanto riguarda invece l'analisi della sua effettiva sicurezza ed affidabilità vi rimando in coda il video perché vabbè lo scoprirete poi da soli per cui seguitemi fino ad allora ok ma prima di cominciare come sempre se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente ricordandovi altrettanto di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni ogni giovedì ore 12 e 30 come anticipatovi nello short della scorsa settimana nell'ultimo mese sono stati accherati centinaia di migliaia di account tra instagram whatsapp facebook e non solo e questo sicuramente a causa anche del fatto che spesso e volentieri le nostre password sono sì tanto elementari che pure un cibone con la peste lobotomizzato e senza braccia riuscirebbe a indovinare in mezzo al nanosecondo si deve soprattutto anzi principalmente alla mancata attivazione della two factors authentication ovvero l'argomento di cui parliamo oggi come forse avrete già inteso lo scopo ultimo di essa è quello di evitare che qualcuno possa rubare i dati di accesso sia al vostro profilo social ci mancherebbe ma più in generale a qualsivoglia sistema o servizio riuscendo ad entrarvi all'interno spacciandosi per noi altri se quando ciò accade perché vi garantisco che accade con un'incidenza incredibilmente alta non so ad esempio a livello della nostra email è fattibilissimo che il malintenzionato di turno riesca attraverso di essa a carpire ulteriori informazioni sensibili su di noi come non so dati personali indirizzi coordinate bancarie e quant'altro riuscendo a fare il bello il cattivo tempo a scapito nostro senza doverci mettere la faccia e se ciò accade per esempio a livello della banca online ehi non è proprio il massimo fortunatamente ad oggi sono già tantissimi sistemi e servizi che obbligano l'attivazione dell'autenticazione a due fattori uno su tutti la banca online ma anche apple giusto per fare due esempi molto spiccioli ma in larga parte si lascia ancora che la scelta della sua attivazione o meno avvenga a totale discrezione dell'utente finale io personalmente non sono assolutamente d'accordo con questo ed anzi fosse per me lo renderei obbligatorio su qualsivoglia piattaforma perché si sta parlando di sicurezza informatica non di brustullini tuttavia gente sia ben chiaro che l'attivazione della cue fei non garantisce la totale ed impenetrabile sicurezza perché altrimenti sarebbe sufficiente che il mondo intero la attivasse e si risolverebbe in un attimo il problema di hacker virus e quant'altro perché per l'appunto se ad esempio qualcuno come dicevamo prima riuscisse ad accedere alla nostra email principale potrebbe senza neanche grosse difficoltà resettare l'accesso a quel determinato servizio su cui abbiamo attivato la cue fei piuttosto che sbloccare determinate funzioni adesso correlate e questo perché nuovamente purtroppo utilizziamo le mail davvero per qualsiasi qualsiasi cosa senza soffermarci mai abbastanza a riflettere sul fatto che alcune informazioni non andrebbero mai divulgate attraverso di esse un po come mi ricordo quando da piccolo mio nonno scriveva su un post it il pin del bancomat e poi lo appiccicava sul bancomat stesso questo perché la quantità e variabilità dei metodi dei trucchetti che un hacker può utilizzare per accedere ad un sistema piuttosto che appropriarsi indebitamente di determinate informazioni è davvero incredibile basti pensare che negli ultimi due tre anni la quantità totale mondiale di attacchi informatici è letteralmente esplosa arrivando a toccare vette da brivido non soltanto a livello dei social network e questo in primis a causa del covid per colpa del quale milioni di persone si sono viste sbattere di punto in bianco a lavorare da casa spesso in condizioni davvero aberranti su sistemi in più delle volte personali non protetti e prive loro stesse delle competenze basilari per evitare pugnette informatiche e qui esperienza personalissima quando a suo tempo un'amica di mia madre mi chiamò chiedendomi una mano per configurare il suo computer portatile personale come dicevo prima queste situazioni abbastanza discutibili in quanto doveva iniziare a lavorare da casa ma di informatica ne capiva quanto un radicchio e non sapeva dove mettere le mani e niente vado da lei e scopro che il computer in questione il suo computer che voleva utilizzare era null'altro che un compact nx 70 10 nativo windows xp e quindi con circa una ventina d'anni sulle spalle inutile dire che ne è venuto fuori un ottimo fermaporta scherzi a parte gente questo è un problema davvero reale e molto pericoloso e non pensate nemmeno per un istante di esserne esenti perché ad esempio voi ne capite di informatica frase che sento davvero milioni di volte perché se questa gente riesce ad infinocchiare quei tecnici con palle dodecaedriche che lavorano per google microsoft e compagnia cantante coi loro sistemi di sicurezza ben più sistemi di sicurezzati di quelli che voi potrete mai vedere in vita vostra vi assicuro vi garantisco che per quanto siate bravi e non lo metto in dubbio non potrete mai fare di meglio da soli e prima di proseguire oltre ci tengo a specificare che con autenticazione a due fattori si intende proprio l'accezione letterale della frase ovvero un' autenticazione che per essere portata a termine con successo necessita dell'inserimento di due diversi fattori i quali per l'appunto dovranno essere differenti l'uno dall'altro il primo solitamente è una password il quale fa capo ad un relativo username che nella maggior parte dei casi come ben sapete è il vostro indirizzo email personale mentre invece il secondo può essere scelto liberamente all'interno di uno dei seguenti tre gruppi qualcosa che si conosce qualcosa che si possiede o qualcosa che fa parte di se stessi del primo gruppo fanno parte ovviamente tutte le password le risposte a quelle classiche domande di sicurezza che tutti abbiamo visto almeno una volta tipo dove sei nato come si chiamava la via in cui sei cresciuto il nome del tuo primo animale domestico a che t'hai perso la vergita no forse quella no e ancora un pin personale piuttosto che quei codici che ricevete via sms o mail contrassegnati dalla dicitura otp ovvero one time password e quindi come suggerisce il nome un codice che può essere utilizzato una sola volta e tra l'altro entro un determinato lasso di tempo difatti se dopo averlo ricevuto indugiate credo per oltre un paio di minuti credo sia questa la finestra temporale utile dovrete andarne a richiedere uno nuovo in quanto quello non sarà più utilizzabile del secondo gruppo fanno invece parte tutti i dispositivi che possediamo da una chiavetta usb con schermo senza tipo quelle che forniva la banca un pochino di tempo dietro piuttosto che tessere con un chip oppure applicazioni installate sul vostro smartphone e a tal proposito mi sto ovviamente riferendo a tutte quelle applicazioni così denominate autenticator quindi come ad esempio auti piuttosto che google autenticator o microsoft autenticator giusto per citare diciamo tra le principali più conosciute le quali e lo specifico a scanso di equivoci pur essendo applicazioni quindi software a tutti gli effetti ricadono all'interno di questa categoria di questo gruppo in quanto una volta che le avete installate sul vostro smartphone queste si legano ad esso in maniera indissolubile rendendosi utilizzabile solamente attraverso di esso questo per dire che se un domani andrete a cambiare smartphone e andrete ovviamente a reinstallare questa applicazione sul nuovo dispositivo prima di poter accedere a tutti i vostri codici a tutti i vostri account dovrete nuovamente autenticare ed autorizzare questa nuova applicazione installata sul nuovo dispositivo per ovvie ragioni di sicurezza infine il terzo ed ultimo gruppo è senza dubbio il più facile da capire perché si tratta di biometria impronte digitali analisi del volto dell'iride della voce insomma di qualsiasi cosa che fa parte di voi e in realtà per dirla tutta gli elementi di questo gruppo vengono anche utilizzati spesso come primo e in realtà molte volte come unico metodo di autenticazione esattamente poi come quando vogliamo sbloccare il nostro smartphone usando il dito piuttosto che il riconoscimento facciale e quindi l'abbinamento di due dei fattori contenuti all'interno di questi gruppi definisce un'autenticazione a due fattori la quale come abbiamo detto per tutto il video aumenta sensibilmente il nostro livello di sicurezza questo però a patto di utilizzare password strong evitando quindi abbreviazioni come qwerty sequenze numeriche o roba simile e ovviamente anche tenere tassativamente sempre sotto controllo il proprio dispositivo perché qualora dovessero rubarvelo e finisse nelle mani di un malintenzionato capace purtroppo per voi sarebbero dolori e se siete arrivati a questo punto nella speranza di sapere come funziona la ciu e fei a livello logico vi accontento subito e vi dico già che vale la stessa cosa per qualsiasi approccio scegliate di utilizzare anzitutto viene chiesta una password e successivamente solo se quest'ultima è corretta verrà chiesto di inserire anche il secondo fattore di autenticazione ovvero quindi un pin una seconda password l'impronta digitale la scansione del volto e più in generale qualsiasi elemento contenuto all'interno dei tre gruppi di cui sopra in aggiunta l'autenticazione a due fattori gode di ulteriori due livelli di protezione forniti dal tempo e dalla posizione il primo di per sé è abbastanza facile da comprendere in quanto dopo aver inserito correttamente il nostro primo fattore di autenticazione ovvero la nostra password dovremo andare ad inserire il secondo all'interno di una finestra di tempo limitata solitamente nell'ordine dei 30 secondi e in caso di errore potremo ritentare per un numero limitato di volte al termine delle quali il sistema verrà bloccato per precauzione e seppure questa cosa possa essere probabilmente abbastanza fastidiosa perché dopo ci sarà un iter per sbloccare tutto il sistema che non vi racconto neanche di per sé è fondamentale per scongiurare quei tentativi di attacco con la forza portati avanti da software creati ad hoc che generano migliaia di password casuali nel tentativo di azzeccare quella giusta e riuscire ad accedere al sistema intento però che la nostra limitazione temporale e del numero dei tentativi va a stroncare sul nascere a seguire l'ulteriore livello di protezione fornito dalla posizione geografica il quale pur non essendo ancora particolarmente diffuso di per sé davvero utilissimo quando il sistema infatti rileva un tentativo di accesso da una posizione geografica non usuale per precauzione procede a bloccarsi completamente anche se i fattori di autenticazione inseriti erano corretti e prima che possiate domandarvelo a scanso di equivoci specifichiamo che l'identificazione geografica di quel dato dispositivo viene effettuata in primis tramite geolocalizzazione ma qualora essa non sia disponibile o non sia possibile utilizzarla viene sfruttato il suo indirizzo ip argomento del quale abbiamo già straenormemente parlato nel video ad essi dedicato che vi lascio linkato sia qui sotto in descrizione che on screen se per esempio io accedo all'applicazione della banca online sempre dall'italia un bel giorno gli arriva una richiesta di autenticazione che so dagli stati uniti per precauzione come dicevamo essa provvede a bloccarsi completamente notificando la cosa al proprietario del profilo e chiedendogli se era davvero lui oppure no e se sì solitamente tramite un link integrato all'interno della mail medesima sarà possibile resettare la cosa e sbloccare nuovamente l'accesso riuscendo finalmente a pagare quei due maledetti frappuccini che stai tenendo in mano da un quarto d'ora ustionandoti le palme come su una piastra per hamburger nell'attesa che l'applicazione decida di darti udienza storia vera e se vi state chiedendo come funzionano a livello tecnico le chiavette usb piuttosto che le tessere o le applicazioni di autenticazione di cui auti google o microsoft autenticator di cui abbiamo parlato poc'anzi sappiate che si basano tutte sui medesimi due elementi una funzione matematica e nuovamente il tempo e prendendo ad esempio il gruppo delle app di autenticazione anche perché sono di fatto il metodo più diffuso quando si parla di autenticazione a due fattori diversamente da milioni di altri servizi in questo caso non avviene alcuna connessione tra il vostro smartphone e il server del fornitore del servizio quindi google microsoft o quel che l'è in quanto entrambe ambe due generano continuativamente e offline quei codici numerici che vedete comparire all'interno dell'app tramite un algoritmo basato su di una chiave di decretazione anch'essa comune ad entrambi e l'orario esatto e quindi ogni 30 secondi ovvero la durata di validità del codice che vedete all'interno della vostra applicazione sia il vostro smartphone che il server del fornitore del servizio quindi google microsoft o quel che l'è basandosi sul medesimo algoritmo andranno a generare un nuovo codice che sostituirà il precedente in termini di validità e nel momento del login quando l'utente andrà ad inserire il codice che vede sul proprio smartphone il server andrà a verificarne l'attendibilità e nel caso se sarà stato inserito correttamente procederà a farlo accedere e prima di arrivare all'ultimo argomento ci tengo a spendere due parole alvorro per rispondere ad una domanda che mi sento porre di continuo quando parlo di autenticazione a due fattori ovvero se dopo averla attivata sia necessario ogni volta inserire due credenziali per accedere a quel dato servizio la risposta è no nell'assoluta stragrande maggioranza dei casi una volta completato con successo il primo accesso non vi verrà mai più richiesta oppure a meno che non si verificano quei casi di connessione sospetta di cui abbiamo parlato all'inizio oppure se si tratta di applicazione contenenti dati molto sensibili mi spiego meglio nei casi di facebook e instagram di fatto viene richiesto solo al primo accesso mentre invece servizi come whatsapp o telegram lo arrivano a richiedere indicativamente una volta al mese mentre invece sistemi come la banca online quindi appunto contenente dati molto sensibili anche una volta a settimana o più di frequente in ogni caso comunque tenete bene a mente che si tratta sempre di una verifica che richiede alla peggio 30 secondi massimo un minuto per cui tranquilli assolutamente niente di che e veniamo quindi all'ultimo argomento lì più delicato ovvero quello relativo alla sicurezza quanto lo è effettivamente l'autenticazione a due fattori si può addirittura parlare di tecnologia impenetrabile e pertanto quando è doveroso attivarla e quando invece se ne può fare anche a meno e soprattutto disastro dei disastri casomai doveste perdere il vostro smartphone contenente l'app di autenticazione oppure la chiavetta usb o la tessera del caso come fareste per accedere ai vostri account tutte ottime domande alle quali però andremo a rispondere nel video della prossima settimana in quanto si tratta di concetti ben più complessi e corposi di quelli trattati finora e se decidessi di aggiungerli al video di oggi ne verrebbe fuori un altro da 30 40 minuti per il quale mi accusereste nuovamente di essere troppo lungo nel parlare non so poi perché in realtà di norma parlo sempre poco i titoli di coda nonostante forse ora starete distruggendo il tasto dislike a forza di clic per questo cliffhanger inaspettato io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi spero vivamente con interesse ma ditemi sono stato sufficientemente chiaro domande dubbi ma soprattutto avete voi la 2FA attiva oppure no e nel caso cosa state aspettando fatemelo sapere qui sotto nei commenti sono sempre curioso di sapere la vostra opinione miei cari di supporters e come sempre se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via io sono doc questo è t support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12 e 30 con un nuovo episodio non cambiate canale grazie a tutti grazie a tutti